Parliamo di vitamina E, che è un antiossidante molto conosciuto e molto sulla bocca di tutti. Viene utilizzata infatti in molte creme antirughe e anche come integratore alimentare. Le sue funzioni sono fondamentalmente quella di essere un antiinvecchiamento piuttosto potente e di aiutare moltissimo i processi riparativi della pelle. Infatti in tutti quei casi in cui si abbia la pelle irritata, atopica, casi di psoriasi, la vitamina E viene in grosso aiuto ed è presente spesso dove ci sono anche altri acidi grassi. Una curiosità, una buona fonte di vitamina E è l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva anche. Quando andate al supermercato cercate di comprare l'olio che è conservato in bottiglie di vetro con intorno la stagnola, in quanto la vitamina E è fortemente fotosensibile e tende a destabilizzarsi, anzi a ossidarsi veramente, quando viene a contatto con la luce. Quindi tenerla al buio aiuta a conservare le sue proprietà. Grazie. 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 Grazie.